Abbiamo intervistato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti, che ci illustra un bilancio del suo assessorato in un momento di crisi che continua a persistere nel nostro territorio non solo, con interventi in vari ambiti a livello sociale. Il bilancio, nonostante le difficoltà che viviamo a livello di trasferimenti, a livello di finanziamenti, il fondo sociale è stato praticamente azzerato. Nel nostro Comune abbiamo fatto ogni sforzo per mantenere e difendere la spesa sociale, di questo ringrazio anche il Sindaco che mi ha supportato in questo. Inoltre abbiamo attivato dei rapporti con il terzo settore, con le associazioni, con tutte le risorse che il territorio e la società civile offre, in modo da rivedere e riorganizzare i servizi e razionalizzare la spesa per poter mantenere i servizi e in alcuni casi anche ampliarli. In particolare in questo report che abbiamo poi fatto svolgere alla Università Politecnica delle Marche, abbiamo focalizzato l'attenzione su tre macro-aree che sono poi le più importanti. Quella degli anziani, nella nostra popolazione invecchia, un quarto della popolazione ascolana è ultra 65enne. Il tema, l'ambito dei minori, e anche qui abbiamo una serie di servizi anche domiciliari che diamo ai bambini disabili, ma anche ai bambini disagiati, nonché l'assistenza scolastica nelle scuole. E il tema della disabilità in genere. Ecco, per esempio, sulla disabilità noi abbiamo, rispetto alla spesa complessiva del sociale, un investimento del 51% della spesa totale. Quindi è un investimento significativo perché riconosciamo la necessità, l'importanza di sostenere le persone che maggiormente vivono difficoltà e disagio a causa della loro disabilità. Quindi abbiamo operato in alcuni settori, come ad esempio la struttura residenziale per disabili COSER, la mia casa, sulla quale abbiamo fatto un cambio gestorio, ovvero una modifica radicale della tipologia di affidamento del servizio esternalizzando la struttura. Questo ha portato questa struttura da un costo di circa 180 mila euro l'anno a un costo di 18 mila euro, che è semplicemente la compartecipazione alle rette. La stessa cosa abbiamo fatto nella gestione del Ferrucci o anche nel nuovo appalto per il trasporto dei disabili, che passa da 300 mila euro a 180 mila. Insomma, abbiamo cercato davvero di entrare dentro ogni singolo servizio, conoscerlo a fondo per poter razionalizzare la spesa e quindi mantenere quel livello qualitativo e quantitativo dei servizi che abbiamo avuto finora.